amici sportivi amici fanta allenatori buongiorno bentrovati dal vostro veterano del fanta calcio parliamo oggi in questa giornata che è già nel pieno della giornata numero 11 di campionato di quella che è una situazione per certi versi un po surreale cioè analizziamo i primi tre slot attacco isolato più pagati a livello globale in italia fanta calcio e che per diversi motivi in questa giornata numero 11 non andranno a bonus anche perché abbiamo appunto lukaku non convocato per i merci di ferenze contro la fiorentina immobile che sarà out come sapete fino al 2023 e dusan braovic che di fatto nel 4 a 0 della juve contro l'impoli non ha portato neanche un bonus neanche un assist quindi su tre giocatori che di fatto sono stati pagati oltre il 35 per cento di media nessuno andrà a bonus questa cosa è deleteria per noi fanta allenatori fanta allenatori che diversamente in tanti luoghi hanno comprato e completato le loro rose con appunto i giocatori in questione immobile braovici e lukaku mediamente sono stati acquistati da apertura folli puntando come primo soldi reparto vediamo un po come stanno andando questi giocatori ho fatto qualche analisi anche a livello statistico grazie ai dati di magic goal ai dati di fanta lab e di football vision ultima app che appunto ci darà un supporto collaborativo al canale del veterano per capire come si stanno comportando questi giocatori abbiamo estrapolato le medie voto le fanta medie voto la percentuale di partite che è andata oltre 6 in pagella e poi la frequenza al bonus e poi un focus sui singoli giocatori come media voto i tre giocatori in questione sono rispettivamente al quattordicesimo posto lukaku con un 6 e mezzo di media voto immobile al ventunesimo posto e braovici al cinquantunesimo posto con un 6.3 il primo in classifica generale è la oriente del sassuolo che è una media voto complessiva del 6.8 quindi siamo molto molto lontani come media voto anche dalla top ten fanta media voto un po meglio il primo posto è di di bala con un 8.9 al sesto posto c'è dusan braovici con un 8.4 all'ottavo posto immobile con un 8.3 e al posto numero 17 lukaku con un 7.5 lukaku è vero che appunto ha avuto un'infortuna abbastanza lunga quindi di fatto è una fanta media voto una media voto un po non proprio veritiera al massimo però comunque in questione è un giocatore da analizzare in questa in questo senso percentuale di partite con voto in pagella superiore del 6 questo mi pare un voccio come dire un punto importante vlaovic ha una percentuale bassissima 55 per cento infatti si posiziona al posto numero 243 in classifica quindi molto molto basso al posto 171 c'è lukaku 66 per cento di partite va oltre 6 in pagella un po meglio immobile che si posiziona al posto numero 99 con un 80 per cento pensate che giocatori come strefezza e zilischi hanno una percentuale di come dire di voto oltre a se in pagella al 100 per cento quindi tutti i match che hanno giocato strefezza e zilischi hanno preso almeno la sufficienza quindi non ci lasciano mai in panne mentre i tre attaccanti in questione un po ci lasciano in panne un focus importante l'ho fatto poi sulla frequenza bonus cioè quanto hanno inciso questi giocatori rispetto ai minuti giocati lukaku che è stato pagato mediamente il 35,2 per cento nelle asti italiane complessivamente posiziona alla posizione si posiziona al posto peggiore 1.5 di frequenza bonus è vero che ha giocato pochissimo solo tre partite ha fatto un gol e un assist costo per bonus 2.31 non proietta chiaramente se così fosse ma così non sarà a quattro gol a fine anno ma perché comunque a livello statistico questa è la proiezione ma chiaramente rientrando darà sicuramente bonus importante a noi fanto allenatori. Vrovic pagato il 38,2 per cento ha una frequenza per bonus di 1.3 infatti ha fatto sei gol e un assist su nove partite giocate il che vuol dire che lui ha un costo per bonus dello 0.53 quindi abbastanza buono non buonissimo proietta 22 gol a fine anno. Immobile ha una frequenza bonus 1.1 quindi lui è il migliore infatti ha fatto sei gol e tre assist su dieci match giocati ha un costo per bonus di 0.47 io ricordo che l'ottimale 0.25 0.35 è molto buono fino a 0.50 è diciamo così discreto oltre è un po' deleterio. Immobile proietta tra i 22 e 23 gol come proiezione a fine anno quindi sicuramente sono numeri importanti ma non comunque così incisivi visto il costo d'acquisto per quanto riguarda Ciro Immobile the king che chiaramente sarà out fino a fine 2022 quindi è vero che c'è di mezzo mondiale ma comunque una perdita importante per noi fanto allenatori. Poi abbiamo analizzato chiaramente i singoli giocatori cioè parliamo di Lukaku Lukaku ha fatto solamente tre match come detto media voto 6.17 quante media voto? 7.50 un gol fatto un assist e basta un rating per quanto riguarda meggi gol e il veterano pari a tripla c quindi non un rating eccellente chiaramente dalla sua parte ci sono tantissime scusanti che sono quelle dell'assenza lunga per infortunio però la sensazione che abbiamo avuto quando appunto l'abbiamo analizzato anche nei primi match giocati dall'inter in coppa in coppa in campionato e nei vari match anche nei amichevoli era quella di un onde vasto come quando c'era Antonio Conte quindi è sicuramente un punto di domanda importante quello della connessione che ci può essere con Simone Inzaghi diversamente da quella con Antonio Conte dove di fatto lo riteneva un giocatore indispensabile è veramente il pirastro del gioco di Antonio Conte quindi questo è un grande punto di domanda che tanti fantaniatori si stanno facendo anche in queste in queste ore analizzeremo chiaramente non convocato per Firenze nei prossimi match se appunto ci darà un po' di motivazioni migliori Immobile come detto il migliore dei tre però starà fuori per un lungo periodo di tempo i 10 match giocati media voto 6.4 fanta media voto 8.10 un rating a singolo ha fatto infatti 6 gol 3 assist un rigore sbagliato per lui qui la sensazione chiaramente quella di avere in casa il miglior attaccante anche con Sarri si conferma essere super top chiaramente l'infortunio ci darà e non poco nella nostra gestione chiaramente prendendo immobile spendendo mediamente quasi il 40% del nostro budget di fatto il resto della squadra è una squadra costruita con un po' di limitazioni e quindi se siamo stati bravi a costruire una squadra con bassa economia ma ottimi giocatori sicuramente riusciamo a mantenere a gara la barca fino a meno ritorno di immobile diversamente se abbiamo un attacco abbastanza spuntato questa cosa può essere un po' delettiera per il nostro momento di forma e per il nostro fantacalcio chiudiamo con Dusan Vlaovic che di fatto è un giocatore che messo in un contesto importante può sicuramente garantire tanti bonus sicuramente il rientro di Pogba di Maria e di Chiesa lo aiuterà tantissimo finora ha fatto 9 presenze media voto 6.00 fanta media voto 8.11 rating per il veterano per magic goal 6 gol e un assist non male non male in effetti come bottino ma chiaramente i fanta media si aspettano molto molto di più soprattutto in un match come quello di ieri contro l'Empoli dove di fatto su 4 gol si attendeva quantomeno qualche bonus e non una insufficienza in pagella anche e soprattutto dopo il gol al derby contro il Torino quindi sicuramente un po' di delusione c'è per Vlaovic ho messo anche in piedi un sondaggio chi tra i tre giocatori farà secondo voi il maggior numero di gol se andate sulla community del veterano su youtube andate a votarlo è un'infografica molto interessante quindi fate questa info sondaggio quando volete vi aspetto presto sul canale ragazzi fate un po' di passaparola vi aspetto presto vi auguro una buona giornata buon fantacalcio a tutti ricordandovi che il fantacalcio è il gioco più bello del mondo dopo il calcio ciao ragazzi a presto buon fantacalcio